Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi giudichiamo male, anzi malissimo, le copertine dei libri in uscita in questo periodo. È un format che ho già portato altre volte e cosa facciamo fondamentalmente? Prendo tutte le copertine dei libri in questo caso che sono uscite qualche settimana fa perché sono un po' in ritardo con questo video, io l'avevo già registrato ma l'ho dovuto cestinare per una serie di cambi di pubblicazioni, comunque da settembre fino a dicembre tutte le uscite che già più o meno si sanno e comunque hanno una copertina confermata, io andrò a giudicarle senza però parlare della trama del libro in sé ma giudicandole solamente dalla loro copertina, che non si fa ma io tendenzialmente, essendo un po' la mia deformazione professionale, quello di andare un po' a vedere l'impostazione grafica di queste copertine insomma mi interessa sempre, quindi poi è abbastanza ovvio che di alcuni di questi, visto che li ho già letti, arriverà un po' qualche info sul cosa è stato, cioè cosa c'è dentro, perché è inevitabile. Ovviamente queste sono le mie opinioni, quindi è un po' superfluo dire che se la pensate in maniera diversa, se quelli di cui sto parlando sono i vostri libri preferiti, non vi sentite assolutamente chiamati in causa, ma perché ripeto queste sono le mie opinioni, che lo so che sembrano cose reiterate e ripetute continuamente, ma a quanto pare su questo canale non è mai sufficiente dirlo, quindi direi di iniziare perché abbiamo già fatto un preambolo di 7 minuti, quindi partiamo dalle uscite di settembre, siamo già verso la fine di settembre, in realtà è incredibile, cioè è arrivato settembre ed è finito in un attimo, detto ciò ci sono state davvero tante uscite, tanti annunci, un po' anche per recuperare quelle dei mesi precedenti, e quindi direi di iniziare proprio con l'inizio del mese, poi mi metto anche un po' di lato, perché qua a parte che pagliacce sempre, però al di là di questo così c'è più spazio per farvi vedere la copertina, in ogni caso abbiamo l'ascesa di Senlin di Joshua Bancroft, che io ve lo dico personalmente è una copertina che amo, perché c'è una delle illustrazioni più affascinanti, più interessanti, che io abbia visto nell'ultimo periodo, insomma mi piace moltissimo questa babele sorretta da questa persona, insomma trovo che l'artwork già di per sé sia estremamente figo, fondamentalmente è una copertina che si gioca sull'artwork, e che secondo me in qualche modo esprime bene quello che è il tema fondamentale del libro, è anche una copertina che ricorda in qualche modo moltissimo l'immaginario artistico sovietico, quindi altra cosa che ovviamente mi parla molto, insomma mi piace, ci trovo dei riferimenti molto giusti anche perché a quanto ho capito, l'ho ricevuto ma ancora devo leggerlo, è un libro che diciamo prende in considerazione un po' la lotta di classe, lo sfruttamento insomma della forza lavoro, della classe operaia e non solo, poi ci sono dentro altre cose, è un fantasy distopico e quindi io non vedo l'ora di leggerlo, e velocemente questa copertina mi piace un sacco, giusto il font, giusto insomma tutto, perché c'è qua anche un po' di razionalismo dentro, un po' di insomma quelle cose lì da regime, per quello di cui andrà a parlare secondo me è corretto, detto ciò andiamo avanti. Andiamo avanti perché è un mese denso di uscite e ho scoperto in realtà a cose già fatte, ma l'ho scoperto il giorno della presentazione, che è uscito Daisy Jones and the Six di Taylor Jenkins Reid, non mi veniva il nome dell'autrice, è uscito l'8 di settembre per Sperling and Kupfer, è un libro che io ho letto, quindi prima partiamo dalla copertina, secondo me la copertina di questo disco, perché chiamiamola è una copertina di un disco non di un libro, è bellissima perché è perfettamente a tema, insomma mi vengono in mente guardando proprio a primo acchito tutte quelle cover, o comunque in generale quelle band che hanno delle front women femminili o delle cantanti femminili della scena rock tra gli anni 60 e 70, partiamo dalla sua maestà Stevie Nicks, Janis Joplin, ci mettiamo Patti Smith, Grace Slick, cioè c'è tanto che richiama ed è giusto, perché in fondo questo libro parla di... parla, vabbè, lasciamo per... ok, questo è un libro che si rifà attorno a una sorta di storia, di ascesa e poi diciamo tracollo di questa band che si chiama appunto Daisy Jones and the Six, quindi insomma la trovo giustissima, azzeccatissima, bello il font, bella la copertina, il trattamento, c'è tutto, insomma la copertina è giustissima da un punto di vista tecnico e puramente professionale. Allora, prima di arrivare a cosa c'è dentro che è il problema fondamentale, devo dire che la casa editrice secondo me ha fatto benissimo a tenere la copertina US e poi a trasportare... no, UK forse, no, è US se non sbaglio, vabbè, e a trasportarla nel mercato italiano, bravi, che non hanno fatto dei danni stavolta. Ecco, il mio problema fondamentale è con l'opera in sé, io sono una stragrandissima appassionata di musica, questo l'ho trovato un libro super macchiettistico, super stereotipato, inutile oggettivamente per chiunque sia appassionato di musica e l'altro problema abbastanza grave è che sembra la reportage, cioè proprio la trascrizione, anzi no, la trascrizione di una serie di interviste di un documentario su rock anni 60 di una qualsiasi band decaduta, oltre a trovare particolarmente fastidiosa la protagonista, ve ne avevo parlato in qualche wrap-up tempo fa quando l'ho lessi e comunque c'è anche la mia recensione completa su Goodreads, se volete sclerare con me. Detto ciò, però, in realtà, se io dovessi vedere solo la copertina ed è il motivo per cui io l'ho letto, la copertina è bellissima. Poi, tanto per rimanere su cose che mi sono piaciute, vabbè, rega, sto video, ok, è uscito, sono usciti, anzi, i primi tre volumi della saga di Stalking Jack the Rippers in italiano, si chiama Sulle tracce di Jack lo squartatore, di Carrie Maniscalco, quello è il primo, poi c'è quello su Denis, poi c'è quello su Dracula, eccetera, eccetera. Che dire, secondo me la Oscar Volk ha fatto un bellissimo lavoro, però ha ripreso le cover originali, che di per sé non sono nulla di spaziale, anzi, hanno un'impostazione molto classica da romance, chiamiamolo romance, un po' Harmony, dove c'è la damina in primo piano, col vestito cambiato, sempre nuovo, diverso, bla bla, ma la particolarità è che, in teoria, questi sono libri dove non si parla solo di romance, ma c'è anche una trama gialla, più o meno, vagamente, nei meandri se la cercate bene, io non l'ho trovata, ma vabbè, in ogni caso, al di là di cosa c'è dentro, tutte le copertine, secondo me, sono giuste, hanno queste impostazioni tutte uguali, insomma, da dare proprio un senso di continuità, però in ognuna la nostra protagonista, cioè Audrey Rose, ha in mano uno degli strumenti per richiamare il suo, diciamo, nemico del libro, cioè, insomma, il grande tema del libro, nel primo c'è uno stiletto, nel secondo c'è un paletto da conficcare in Dracula, nel terzo ci sono delle carte da gioco che evidentemente faranno cose. Detto ciò, io la trovo molto giusta, e anzi, davvero, Oscar ha fatto un lavoro della Madonna, perché ha fatto delle edizioni bellissime, da un punto di vista grafico, per me, ha fatto un gran lavoro. Poi, ecco, secondo me queste sono copertine giuste, non sono una cosa che a me attira particolarmente, nel senso, non mi piace, non è il tipo di grafica che amo di più, ma sono molto giuste, molto adatte al tipo di romanzo che, insomma, si va a presentare al tipo di serie che si presenta, in questo caso, anche molto immeritata la cura, nei dettagli, il super lavoro che hanno fatto in Oscar per tirare fuori queste copertine, perché c'è la roba dentro. Io, ragazzi, non voglio girarci troppo attorno, perché, secondo me, questi sono libri brutti, nel senso che sono scritti molto male, dove, ovviamente, la trama, che poteva essere l'elemento di interesse, cioè la trama gialla, non c'è, sono dei romance, tra l'altro è un romance anche molto brutto, c'è un romance che è chiamatissimo, telefonatissimo, è la classica storia tra Damina che vuole fare quella che lei non è come le altre, anche se però dice, no, ma io non voglio fare quella che non è come le altre, però vi faccio sentire come se io non fossi quella come le altre, quindi già lì, femminismo un po' a becero di serie, Ixilon, detto ciò, in più, si innamora di Cosino, che è fondamentalmente uno che risponde continuamente male, e la tratta continuamente male, però evidentemente a lei piace. Detto ciò, secondo me non è nulla di nuovo, sono libri scritti in maniera abbastanza mediocre, a livello molto basso, proprio c'è un problema di costruzione delle frasi, basta leggere il prologo, vabbè, nel senso, se vi piace questo tipo di libro trash, è sicuramente di intrattenimento, divertente, non ne sono poi così sicura di questa frase, perché secondo me non è nemmeno divertente, ma se vi piace, peace and love, cioè non è un mio, è che a me proprio non piacciono, cioè è un tipo di roba che non mi piace, detto ciò, però invece, ottimo lavoro di copertina, secondo me questo è un buon lavoro grafico. Dopo la maniscalco, ho scoperto che è uscito pure, Wayward Son, che si chiama Un Eroe Ribelle, ok, che è il seguito di Carry On, qua abbastanza apprezzato in questo canale, di Rainbow Rowell. Allora, la copertina io devo dire che avevo visto solo quella disegnata da Kevin Wanda, e quindi, in questo caso, non avevo mai visto il corrispettivo US di questa, cioè la prima volta che vedo questa copertina italiana, che dire, follettine e follettine, a me sinceramente non piace granché, anche perché c'hai questo sfondo che è molto elaborato, e in primo piano delle sagome, delle silhouette, tra l'altro sono tre, ah no, sono due, però scusate, mi pensavo che le ali fossero un corvo, benissimo, benissimo, qua va benissimo, brava Tiffany, come sempre ci distinguiamo, va bene, ok, detto ciò, non lo so, mi sembra quasi di vedere una sorta di supernatural, cioè la macchina dei fratelli Winchester, non l'ho letto, quindi io non so nulla del contenuto, ho solo sentito opinioni super negative, ma non avevo dubbi, d'altronde, era strano che Carry On a me fosse piaciuto, non lo so, la copertina non mi fa impazzire dell'edizione italiana, ce la trovo un po' tirata via, poi immagino che sia stata fatta così, per essere in continuità con l'edizione italiana di Carry On, rispetto magari alla copertina, abbastanza bella secondo me, dell'edizione US, che dire, follettine, follettine, a me non piace, ci sta, ci sta, ma se io mi trovassi in libreria, e dovessi prenderlo, boh, ci penso un po', boh, anche il font, un po' tirato via, poi, cioè non mi piace che sia lettering fatto a mano, o pseudo lettering fatto a mano, non lo so, non mi fa impazzire, e quindi, cioè già non l'ho letto, e non ho intenzione di leggerlo, non leggeremo l'edizione italiana, cioè non è un cattivo lavoro grafico, cioè non frantendete, però nemmeno una di quelle cose, una di quelle copertine, che mi fa venire voglia di leggere un libro, che già avevo escluso a priori, il 22, ok, adesso io sto registrando questa cosa, poco prima del 20, quindi insomma, vedrete delle cose che sono già uscite, vabbè, sarà un po' anacronistica, qualcosa che dico, ma amen, il 22 esce, dormire in un mare di stelle, di Christopher Paolini, che esce in due volumi, a distanza di tempo, perché infatti, la prima parte esce il 22, la seconda invece esce il 10 ottobre, allora io devo dire che, allora, al di là di tutto, sono estremamente curiosa, anche se ce l'ho già in inglese, da tempo, perché me l'aveva mandato la casa editrice, però sto rallentando, non so, non l'ho messo come priorità, e sono estremamente curiosa, sinceramente, e in maniera positiva, anche perché voglio vedere proprio come Paolini, nel corso del tempo, anche con una grande evoluzione, sia di età, che di impegno nella scrittura, sicuramente è voluto, ma questo è un discorso che non c'entra niente con questo video, la copertina mi sembra, in generale, riprendere la copertina US, quindi l'edizione originale, che per me è comunque affascinante, perché comunque, hai questa immagine molto bella, di quella che sembra una galassia, con questa sagoma, in controluce, di un uomo che cade, di una persona che cade, di un sub, di un non lo so, che cosa sia, non so nulla, su questo libro non ho neanche letto, diciamo, retro copertina, e poi c'è questo font, bastoni, molto grande, molto semplice, che ci si incastra attraverso, ecco, non mi fa impazzire una cosa, di questa copertina, ma è un gusto personale, non è un errore, però aver scritto, Christopher, Paolini, che è grande, un sei, un tre per sei, praticamente, cioè un manifesto, secondo me è un po' troppo, potevano dare più spazio all'immagine, più spazio al titolo, e meno all'autore, poi perché viene fatta questa cosa, perché ovviamente, di questo libro, a te ti interessa, lettore, che giri in biblioteca, giri in libreria, e non sai, che è uscito il nuovo, libro di Paolini, che c'è scritto Paolini, quindi, ah, fa quello di Eragon, e ce l'hanno anche dovuto mettere sopra, cioè c'è troppo testo, secondo me, in questa copertina, per dover comunicare, tra tante cose, cioè dopo il best seller mondiale, Eragon, un mare, dormire, un mare di stelle, Paolini, scritto grande, come una sleppa in faccia, cioè, un po' tanto, potevano migliorare alcune cose, però vi devo dire, con qualche cambiamento, secondo me, questa era davvero una bella copertina, è comunque affascinante, è comunque una di quelle che, ti crea un po' di magie, non lo so, cioè la vedo in maniera molto positiva, quindi, per me è approvata, e comunque sono curiosa di leggerlo, davvero, ok, ora, il 24 di settembre, esce il libro più atteso dell'anno, ovvero, Midnight Sun, di Stephanie Meyer, atteso da tutti, tranne ovviamente che da me, che dire, in questa copertina, vediamo una vagina, scusatemi, volevo dire, un melograno, che è un chiaro riferimento, alla sessualità femminile, secondo l'iconografia classica, e all'abbondanza, alla fertilità, una serie di altre cose, allora, vabbè, rega, vi dirò una cosa, che un po', cioè, destabilizzerà, tante persone, che mi seguono, e sanno bene, qual è il mio pensiero, su Twilight, ovvero, che Twilight, no wood, ok, però, io ho sempre trovato, un'impostazione, abbastanza, cioè, anche quasi, proprio, canonica, ok, che è in realtà canonica, nel senso, che ha generato anche un canone, nell'impostazione grafica, di Twilight, cioè, secondo me, quello è un lavoro, che con degli elementi, semplicissimi, cioè, giocando solo su tre colori, bianco, rosso e nero, che richiamano chiaramente, il vampiro, e, queste copertine, molto oscure, dove emergono gli elementi, e c'è sempre il titolo, in maniera abbastanza leggibile, non lo so, io l'ho trovata sempre, un'impostazione molto giusta, anche perché, così era facile, poi, andare avanti nella collana, bastava, semplicemente, cambiare, l'elemento, diciamo, visivo, quindi, si è avuto il fiore, si è avuto, insomma, mi ricordo gli scacchi, non mi ricordo gli altri, ma vabbè, non è importante, e ora, abbiamo la melagrana, che, fondamentalmente, richiama un po' le vecchie copertine, ecco, mi sembra un po' troppo, cioè, buttata lì, esplicita, però, non facciamo questi riferimenti, sessuali, perché non si possono dire, tra l'altro, su YouTube, e, non lo so, io la trovo giusta, non mi piace granché il font, magari è quello, esattamente, dell'originale, non lo ricordo a memoria, qua è un po' troppo arzigogolato, avrei tenuto qualcosa di, quasi un Garamond, un font graziato, cioè, con le, cioè, non con le lettere drittissime, ma con, insomma, quelle che vedete sui lati, però, che dire, follettine e follettini, va bene, cioè, ci sta, è anche troppo, questo lavoro grafico, per questo libro, detto ciò, abbiamo tutti voglia di, detto ciò, abbiamo veramente tutti voglia di leggerci, per la quinta volta, Twilight, sono 700 pagine, ho scoperto, me l'ha detto una ragazza della community, 700 pagine, eh, va bene, direi di andare avanti, perché non è finita qua, la carrellata di libri brutti, perché infatti, esce anche, eh, la guida, cioè, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, di Mackenzie Lee, cioè, la guida, eh, ai vizi, la guida per gentiluomini, ai vizi e alle vertù, dovrebbe essere, guida per gentiluomini, vabbè, quella roba lì, di Mackenzie Lee, e esce anche il seguito, della pirateria, i pizzi, pizzi e pirateria, vabbè, per gentildonne, giovani signore, quello che sarà, che dire, hanno ripreso le copertine originali, quindi uguali denti, che con i due fratelli Montague, e, eh, gli hanno schiaffato sopra questo testo, che sembra ritagliato da una lettera di un killer, e quindi, mi chiedo perché sia stata pensata così, poi voleva essere una sorta di diario segreto, non ne ho idea, non lo so, secondo me le copertine vorrebbero trasmettere il senso di divertimento, che c'è all'interno di questi volumi, quello che io ho provato leggendo, il primo, perché non ho letto, il secondo, non mi rifiuto, e, è fastidio, è frustrazione, quindi, effettivamente, devo trovare un po' la, la componente divertente di questi romanzi, detto ciò, mh, avendolo letto, il primo, non è che io sia così felice di questa uscita, però so che avrà grande successo, la copertina secondo me, cioè, si distingue un pochino, da magari altre cose simili, però, cioè, alla fine c'è sempre sta figura di Damino e Damina, centrale, in questo caso sono fratelli, invece che essere amanti, o comunque potenziali partner, e, per me è bruttina, cioè, questa sorta di inserimento punk, come se fossero personaggi punk, ma porca miseria, ma vittiro degli schiaffoni, proprio, no, cioè, a me non piace, in effetti l'ambulanza che passa, era un chiaro segnale, anche in questo caso, ma comunque, dopodiché, esce Pumpkin Heads, il 29, yes, il 29, esce Pumpkin Heads, di Rainbow Rowell, è una graphic novel, esce anche questa per Oscar Wilde, infatti, praticamente, vedrete, i tre quarti sono volumi di Oscar Wilde, perché, almeno Oscar Wilde ha lo sbattimento di dirci, quando escono le cose, al contrario delle altre case editrici, che a quanto pare, continuano a mantenere i segreti di stato, perché, insomma, è boh, comunque Pumpkin Heads, ha la stessa copertina dell'edizione originale, ovvero l'illustrazione e lo stesso titolo, ci saranno delle cose in italiano, giusto per spiegare, eccetera, eccetera, è molto carina, insomma, penso che riprenda tutto ciò che c'è all'interno, non mi sento nemmeno di criticarla più di tanto, anche perché è esattamente l'illustrazione che ci sarà all'interno, quindi che senso avrebbe, non lo so, io non la leggerò nemmeno questa, perché con Rainbow Rowell, dopo Carion ho chiuso, perché è l'unico dei suoi libri che mi è piaciuto, perché il resto non mi è piaciuto nulla, Eleanor and Park terribile, Funger terribile, Carion è carino, cioè non è un bel libro, è carino, è carino, se ti piacciono quelle robe lì, io volevi la scippina carina, io sapete che non sono una grande fan di queste cose, quello l'ho apprezzato, il resto no, quindi tra i due, perché approfondire, però anche sotto forma di graphic novel, potrebbe esserci qualcosa di interessante, vabbè, esce il 29, va bene, il 29 esce anche, poi adesso ho fatto un po' fatica in realtà, ve lo dico perché su Amazon c'è un'inserzione con un'uscita d'agosto e una invece con il 29 di settembre, quindi prendete per buone, uscirà o è uscito in questo periodo, Torre dell'alba di Sarah J. Maas, ovvero Tower of Town, che è il sesto volume, se non erro, di Throne of Glass, cioè il trono di ghiaccio, che poi si concluderà con l'ultimo, che nemmeno mi ricordo come si chiama, ma non ci stiamo, dobbiamo parlare di Torre dell'alba, che è una sorta di spin-off, no spin-off, poi dopo alla fine se non lo leggi non capisci cosa succede nel finale, quindi alla fine va letto, se uno segue la serie del trono di ghiaccio, che dopo ci teniamo, vabbè, ok, se uno segue la storia del trono di ghiaccio, fondamentalmente se la deve leggere, perché se no non capisce il finale, dopo arriviamo ai commenti su questa serie, comunque in pratica la copertina è la stessa copertina del videogioco originale, scusate non è un videogioco, ma a quanto pare è un libro, non lo so, io la trovo molto brutta, ma proprio la più brutta di tutta la saga di Throne of Glass, nonostante a me le copertine di Throne of Glass non piacciono, ma questo è proprio un altro livello, perché c'è questa sorta di scudo qua sopra, questa moneta, questo non lo so, il testo sotto, vabbè, che ci sta, è molto semplice, è molto leggibile, e poi qualcosa sull'orizzonte, secondo me è molto forviante, perché innanzitutto sembra la copertina di un videogioco, in più bisogna anche dire che oltre ad essere la copertina di un videogioco, è anche una copertina che quasi quasi richiama l'epic fantasy, ma Throne of Glass non ha nulla a che fare con l'epic fantasy, usa degli elementi vagamente, ma tanto sappiamo che non è quello il fulcro, perché a noi ci interessano i cosini che si mettono con le cosine, e ok, io devo dire non l'ho letto, ovviamente perché con Throne of Glass, non so come sono arrivata a Empire of Storms, l'impero delle tempeste, che veramente ha raggiunto una bruttura tale che io non me lo meritavo, quindi ho detto vabbè, perché farsi del mare ulteriormente, ci ho provato, così non possono dire che non ci ho provato, basta, cioè è terribile, detto ciò, non lo so, la trovo una copertina anche un po' a caso, ma questo per il progetto in sé, perché comunque sì è uno spin off, però comunque te questo libro te lo devi leggere, quindi un po' di continuità, così qua c'è prevalenza del blu, invece che essere prevalente il bianco, come nelle altre copertine della stessa serie, o comunque anche quelle con l'altro, c'è sempre Selena barra Aileen, chiamatelo come vi parla, non lo so rega, mi sembra anche che io stia commentando questa copertina brutta da troppo tempo, comunque questi elementi in 3D a me non piacciono, c'è questa città sullo sfondo, le cupole, le varie robe, vabbè, è la storia di Kaol fondamentalmente che va a farsi curare, se state leggendo la serie, non so per quale motivo, continuate a leggerla, perché secondo me è necessario, se non la state leggendo, non la leggete, cioè il mio suggerimento è non sprecate il tempo su titoli brutti, ma buttatevi su quelli belli, ah rega, se vi è piaciuta la serie, cioè questo forse non è il canale dove troverete del grande apprezzamento per la massa, ma ok, e davvero io, poi la, veramente giuro, la saga del trono di ghiaccio non mi spiego come sia possibile, però, oh, cioè, a chi piace, a me, andiamo avanti, perché poi esce anche la guerra dei papaveri, cioè, eh, the poppy war, di RF Kuang, che io non ho letto, quindi non so nulla, me ne hanno parlato tendenzialmente sempre molto bene, o comunque chi l'ha letta l'ha apprezzata abbastanza, e, eh, a quanto pare si terrà la copertina originale, con solo il testo modificato, mh, cioè, a vederla dall'esterno, è una copertina abbastanza strana, prima perché è tutto fatto con questa sorta di effetto fumoso attorno al testo, che comunque secondo me è molto piacevole, allo stesso tempo c'è questa illustrazione che sembra fatta, eh, a china, o comunque vecchie tecniche tradizionali, chiaramente, richiama il mondo orientale abbastanza esplicitamente, direi, e quindi insomma queste cose le fa bene, è abbastanza piacevole, eh, la sfiga in italiano è che The Poppy War erano una sotto l'altra, in italiano ci devi mettere sia l'articolo che Dei, e quindi questo un po' secondo me scombina, però non mi dispiace il fatto che non sia proprio tutto super mega allineato, e tutto estremamente giustificato, poi c'è questa donna guerriera armadea, nient'altro, ok, però insomma mi incuriosisce molto, questo lo leggerò sicuramente anche perché lo rimando da troppo tempo, quindi insomma copertina carina, e ci sta, ecco, forse non è uno di quei libri che quando vedi questa copertina ti senti traghettata verso l'acquisto, non lo so, però è comunque un lavoro piacevole, anche nelle prossime copertine si ripete la stessa cosa, quindi insomma trovo un lavoro grafico giusto, non esaltante però una buona impostazione, ok, dopodiché c'è Arrow Alyx il 6 di ottobre con le 10.000 porte di January, in questo caso la copertina è una copertina super ricca, perché abbiamo questo sfondo floreale super potente, due o tre font, non riesco a decidermi se sono due o se sono tre, e questa scrittona del testo così, a me tendenzialmente piacciono molto le copertine dove il testo è prevalente, ok, soprattutto quando è un testo così elaborato, su questo devo un po' decidermi, perché è veramente tanto ricca, e probabilmente non servivano così tanti font, oppure servivano font addirittura un po' più arzigogolati quasi a mio parere, cioè già che ci sei, cioè o fai il carico da 200, o ti tieni un po' più limitato, non lo so, sono indecisa ve lo dico, non ho sinceramente un'opinione completamente certa su questo libro, e quindi non lo so, non mi dispiace, devo dire che se vedessi questa copertina in libreria, tendenzialmente la comprerei, è un lavoro fatto abbastanza bene, lo trovo abbastanza giusto, mi ispira al libro, non lo so, sono un po' indecisa, perché me l'hanno presentato quasi tutti come la versione un po' poraccia di Starless Sea, e io non so se ho voglia di leggere una versione poraccia del libro della vita, quindi non lo so, sono un po' indecisa, magari gli darò una chance, comunque penso sia, ragionare sulla lettura è qualcosa che a me piace sempre tanto, quindi magari lo faremo, non lo so, se devo basarmi sulla copertina, lo trovo una composizione grafica piacevole, abbastanza giusta, secondo me potevano fare un po' meno, o un po' di più, cioè, o fai la tamarrata, o ti tieni un po' indietro, questa è una via di mezzo, un po' democristiana, che, boh, sì, ci sta, ecco, non è tra le mie copertine preferite, però così, poi finalmente arriviamo al 27 di ottobre, dove esce un altro, cioè il libro dell'anno, fondamentalmente in Italia, insieme a Starless Sea, perché è uscito quest'anno a Starless Sea, mentre in inglese è uscito l'anno scorso, ma d'altronde anche Gideon era uscito due anni fa, se non erro, che è Gideon the Ninth, ovviamente di Tamsin Muir, quella pazza di Tamsin Muir, questa copertina a me piace moltissimo, anche perché ha vinto una valangata di premi, dedicati proprio alla grafica, all'impaginazione editoriale, insomma ha vinto l'acqua lunga, quindi devono tenerla così, e cambiare semplicemente il testo, in questo caso troviamo Gideon in copertina, con i suoi scheletrini, la faccia dipinta, e quest'illustrazione secondo me è molto bella, e anche molto giusta, io non so se lo finirò in tempo, perché continuo a leggere due pagine, e poi prendermi degli schiaffi da Gideon, giustamente, perché noi abbiamo questo rapporto un po' strano, dove ci amiamo e ci odiamo, ma sta diventando il mio libro preferito, quindi per farvi capire, questa sorta di relazione tossica, che io ho instaurato con questo libro, ma tutto bene, raga tutto bene, ma ok, detto ciò, a me piace un sacco, a me piace molto, è chiara, ti trasmette la cupezza, che sarà questo libro, e che è questo libro, c'è questa illustrazione, molto bella davvero, mi piace lo stile, mi piace come emerge il personaggio dal buio, e diventa anche, come si vede poi nel secondo, cioè Arrow the Ninth, che è facile anche continuare la collana, comunque la serie, con lo stesso tipo di impostazione, il fonte è giusto, perché quel fonte è un po' scheletrino, che sarà un elemento rilevante in questa saga, visto che si parla di Necromancer, io probabilmente sto provando un troppo amore per Arrow, per avere un'opinione oggettiva, ma a me piace un sacco questa copertina, è anche una di quelle che ti attira, a mio parere, quindi ottimo lavoro davvero, e poi voi segnatevela, perché la leggiamo insieme quando esce, ok? Cioè per forza. In ultimo arriviamo a dicembre, cioè il, no scusatemi, in ultimo arriviamo a novembre, che se non erro al 3 di novembre, che esce La vita invisibile di Addie LaRue, di Victoria Schwab, tralasciando un po' le mie opinioni, sull'autrice del quale parleremo dopo, la copertina riprende quella, proprio testuale, cioè quasi una non copertina, perché è solo testo su sfondo nero, dove però è stato aggiunto, praticamente una costellazione a dare qualche elemento aggiuntivo, è una riscrittura che si ispira al Faust, e non solo, quindi questo in teoria è un elemento che, insomma, potrebbe attirarmi moltissimo, ma ho molti timori, visto che si tratta della Schwab, che secondo me è un'autrice molto mediocre, che viene esaltata moltissimo, quindi è molto sovrastimata, rispetto alle sue reali capacità, oltre ad avere una certa antipatia nei suoi confronti, ma quella è una roba personale, ma a livello testuale, tutto ciò che ho letto di suo, mi è sembrato un po' meh, quindi ho paura, che tendenzialmente questo libro, faccia casino, però, diciamo, mi terrò aperta, perché davvero lo voglio leggere, sono molto curiosa di questa riscrittura, ma teniamoci sulla copertina, la copertina, secondo me, è il tipo di copertina, che invece a me piace molto, questa ha una semplicità davvero quasi illusoria, cioè, è proprio, non copertina, è quasi un poster, è una scritta, non c'è nessun elemento di abbellimento, non è nemmeno una typo copertina, perché qua, cioè, non c'è nemmeno una lavorazione del font, ma sì, c'è semplicemente l'inserimento dell'elemento grafico, che fanno le costellazioni, detto ciò, però, io ve lo dico, per me è molto bello, è molto piacevole, cioè, se io vedessi questa copertina, ne sarei super attirata, perché è proprio il tipo di impostazione grafica, che a me attira, non lo so, cioè, adesso vediamo, appena esce, io sarò pronta a riceverlo, e iniziare a leggerlo, perché comunque, mi incuriosisce molto, devo dire che, sapevo che sarebbero uscite tante altre opere, ma, ahimè, cioè, ripeto, sembra un segreto di stato, scoprirle dalle case editrici, nessuno che fa gli annunci, con almeno un mese di anticipo, perché, evidentemente, hanno perfettamente idea, di come funziona il digital marketing, ma, a parte queste considerazioni, avrei voluto portarvi anche tante altre case editrici, qua, come vedete, la maggior parte è Oscar Volt, perché, ovviamente, sono molto bravi, nel fare comunicazione, e, devo dire, non sono carichissima, per tanti di questi titoli, probabilmente, a parte Gideon, che proprio, sono super felice, che esca, gli altri mi attirano, però, cioè, diciamo, non è che io sia, stia qui a stappare champagne, ecco, e mi dispiace che non, ce ne siano tanti altri, ecco, da presentarvi, però, insomma, intanto, mi sembra un bel elenchino, per fare il punto, della situazione fantasy, young adult, dei prossimi mesi, fatemi sapere, se qualcuna di queste copertine, a voi piace, non piace, qual è la vostra opinione, se la pensate completamente diverso, da me, legata alle copertine, di altri libri, eccetera, eccetera, ricordatevi, che io sto giudicando, cose che non ho letto, magari, solo dalla copertina, quindi, cioè, a Valenza, che Valenza, è un video goliardico, cioè, con grande tranquillità, detto ciò, insomma, io voglio sapere anche il vostro parere, quindi, ci sentiamo giù nei commenti, bene, io direi che siamo arrivati alla fine, quindi, direi che per oggi è tutto, e per tutto il resto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!